Fare un intervento a seguito della domanda proposta di Gianni Barbacetto con riferimento al rapporto di forze tra Andrangheda e Cosa Nostra. Io credo che attualmente Cosa Nostra è sicuramente indebolita rispetto al passato, cioè la forza che aveva negli anni di massimo splendore del 92-93 oggi è venuta sicuramente meno. C'è stata un'attività di contrasto senza precedenti dal 92-93 in poi e ora la mafia militare è sicuramente indebolita. Mi spiego, la struttura stessa di Cosa Nostra ora si caratterizza più da un dato che è quello della polverizzazione, cioè le strutture di comando, la commissione regionale costituita dai rappresentanti delle province dove è radicata Cosa Nostra, la commissione provinciale di Palermo e le altre strutture di vertice, cioè non esercitano più quel predominio assoluto, cioè non c'è quel controllo che assicuravano prima i corleonesi. E lo stesso rapporto di forze con gli esponenti politici è mutato. Prima non era pensabile che un appartenente al mondo politico potesse in qualche misura mandare a quel Paese un capomandamento. Oggi invece il rapporto di forza sembra essersi capovolto, cioè l'indebolimento di Cosa Nostra ha consentito a frange malate del potere politico di prendere il sopravvento e, come dire, di svolgere una funzione di controllo che prima non era in grado di esercitare. Quindi, paradossalmente, l'indebolimento della mafia militare ha consentito alla mafia politica di prendere maggiore piede e di controllare meglio i rapporti di forza. E naturalmente su Cosa Nostra c'è stato un contrasto che non vi è stato con riferimento all'Andrangheta. Ma questo è anche spiegabile perché non tanto per il fatto che non vi siano regole rigide in seno a Cosa Nostra, perché le regole rigide e con stanzioni certe e formidabili sono esistite, esistevano, ma Cosa Nostra ha fatto cose che nessun'altra struttura criminale in Italia ha mai posto in essere. Non dimentichiamoci che sono stati uccisi prefetti a Palermo, Presidenti della Regione, sindaci, uomini parlamentari, cose, delitti eccellenti che non ci sono state in territorio calabrese. Sono stati assassinati a distanza di 57 giorni due magistrati come Falcone e Borsellino con delitti eclattanti con autobombe. In precedenza giudici e istruttori sono stati assassinati, altri magistrati. E questo spiega anche perché si sia puntato, si è acceso un riflettore che ha determinato un'azione di contrasto che è venuta a mancare per strutturi criminali che hanno fatto, diremmo così, dell'azione silenziosa e non protesa ad attirare la pubblica opinione con la Commissione dei diritti eccellenti a una regola di vita come l'Andrangheta. Quindi diciamo ci sono due moduli di contrasto che si sono messi in atto nel nostro Paese. E con riferimento alla esportazione di cui si diceva in precedenza, cioè in che termini la criminalità organizzata nel nostro Paese esporta, vi è una modalità di esportazione anche molto raffinata che viene appositamente posta in essere sfruttando proprio l'incapacità del sistema istituzionale internazionale di contrastare l'azione criminale. E mi spiego con un esempio. Appartenenti alla struttura criminale il nostro Paese per, come dire, mettere al sicuro il provento delle attività delittuose fa ricorso a strumenti come questo. Ad esempio la creazione di una polizza di assicurazione che è lussemburghese. Mi riferisco al caso dell'acquisto di una polizza che si chiama Cali Europe, quindi polizza lussemburghese con intestatario fiduciario, una società italiana, l'Unione Fiduciaria, che, diremmo così, conferisce la gestione di questi titoli, se parla di milioni di euro, ad un istituto svizzero, il Credit Agricole Indos Suez di Ginevra. Quindi una modalità, una tecnica che rappresenta il frutto di una criminalità dei colletti bianchi e che presenta grosse difficoltà per il contrasto. Cioè ci si muove a due livelli, vi sono due velocità. Quella del crimine organizzato che può agevolmente ricorrere attraverso interlocutori bancari a questo strumento e, diciamo, un'autorità giudiziaria che deve affrontare problematiche enormi, perché per ottenere, una volta individuato questo provento dell'autorità illecita, deve chiedere il sequestro, disporre il sequestro in Italia, deve richiederlo in Svizzera per bloccare chi gestisce i titoli, quindi l'Istituto Credito Agricolo Indos Suez, e deve ottenere un sequestro in Lussemburgo. E poi, una volta ottenuti questi provvedimenti di sequestro tramite erogatorie, non è finita, perché bisogna riuscire ad ottenere il rimpatrio di quel denaro. Il problema è estremamente complesso in ragione della legislazione europea che abbiamo, perché presuppone che ci sia il riconoscimento della confisca in tutti gli Stati. E allora bisogna, come dire, lavorare molto per raggiungere un risultato che invece il crimine riesce a ottenere molto agevolmente. Ecco perché è così importante questo documento che oggi abbiamo in qualche misura discusso. E poi, in ordine al rapporto tra la legalità, e concludo veramente in maniera telegrafica, il rapporto, cioè il contrasto tra legalità, libertà e il contrasto al crimine mafioso della necessità dell'equilibrio tra i due aspetti. Beh, le obiezioni europee hanno una loro ragione d'essere, poiché i paesi che fanno parte dell'UE non hanno quelle problematicità proprie dell'Italia. cioè l'assicurare la garanzia collettiva della libertà in Francia non è la stessa cosa che assicurarla in Italia. E allora è chiaro che per la repressione del crimine il punto di equilibrio è diverso tra l'Italia e la Francia. proprio perché voglio dire manca anche una sensibilità derivante dalla diversa esperienza. Quindi la difficoltà di far comprendere queste cose e la necessità di rendere più penetranti gli strumenti per contrastare il crimine mafioso è una necessità che si impone per la salvaguardia di garanzie collettive. Garanzie collettive è molto più agevole assicurare in Francia ad esempio che non in Italia. Una piccola presentazione su questo argomento. Sì.